L'Assolombarda World è il momento in cui la nostra associazione Assolombarda vuole celebrare le imprese, le imprese che durante l'ultimo anno hanno fornito delle performance eccezionali e hanno reso il nostro paese all'interno dell'UE il paese che è cresciuto di più. Questo grazie a che cosa? Alla capacità di sviluppare nuovi progetti, di essere sostenibili, di essere sempre più digitalizzate e di avere uno sguardo anche alla cultura di imprese. Buonasera, buonasera anche su In Galleria. Sono molto lieta di essere anche questa sera la padrona di casa per la seconda edizione degli Assolombarda World. Queste sono le aziende che compongono Assolombarda e ci sembrava giusto celebrarle, celebrarle in un momento diverso, molto più conviviale. Grazie a tutti. La serata che rimarrà a ricordo di tutti quanti i partecipanti, non solo quindi di quelli che hanno vinto, ma di tutti quelli che hanno portato avanti dei progetti che sono sicuro renderanno sempre più forte la nostra associazione, le nostre imprese e conseguentemente anche il nostro paese.